Salve a tutti signori, ben ritrovati in questo nuovissimo video. Si parla di cinema e tv dove ricordiamo Bruce Willis, attore che ha fatto dei film veramente straordinari, che manca però alle scene ormai da tempo, insomma sappiamo tutti che ha purtroppo una brutta malattia e la moglie Emma Heming arriva ed attacca i paparazzi, insomma tutti coloro che vogliono assolutamente cercare di reperire informazioni assolutamente su Bruce e invece lei cerca insomma di salvaguardarlo, di in un certo senso proteggerlo. Quindi la moglie di Bruce Willis lancia un appello proprio sui canali social affinché smettano di dare la caccia al marito, di dargli un po' di tregua a cui è stata di recente diagnosticato un raro tipo di demenza. Dice proprio chiedo a fotografi e cameraman che cercano di ottenere immagini esclusive, di smetterla di dargli la caccia. Lo ha detto appunto in un video postato sulla piattaforma Instagram. Emma è sposata con Bruce dal 2009 e ha avuto due figlie con lui. Nel video ha spiegato che il marito ha bisogno di avere spazio intorno a sé quando è in pubblico. Non gridate, non chiedetegli come sta. Permettete alla nostra famiglia o a chi è con lui di arrivare dal punto A al punto B in condizioni di sicurezza. Un mese fa, circa un anno dopo che l'attore aveva annunciato l'addio alla recitazione a causa di una forma di afasia che gli bloccava il linguaggio, la famiglia di Willis ha fatto sapere che l'attore soffre di una forma di demenza frontotemporale che non può essere curata e colpisce in genere persone tra i 40 e i 60 anni. Bruce Willis e la demenza, la moglie assume la super specialista tipa Snow. Così si prenderà cura di mio marito. Terapie e prospettive. La star di Die Hard ne ha 67 e pochi giorni fa è stato fotografato in pubblico per la prima volta a Los Angeles dopo l'annuncio del peggioramento. Foto e video di Willis in passeggiata con due amici erano state ottenute in esclusiva dal quotidiano britannico Daily Mail. La nuova, crudele diagnosi, annunciata dalla famiglia comporta per Willis un rallentamento nei movimenti, rigidità alle articolazioni, problemi di equilibrio e cambiamenti nel comportamento e nella parola. È doloroso ma finalmente adesso sappiamo, avevano detto il 16 febbraio la Heming, l'ex moglie Demi Moore e le cinque figlie in un messaggio postato sul sito dell'Association For Frontotemporal Degeneration.